Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Oggi questo qua è un video abbastanza serio perché comunque voglio parlare un po' di oggi Di oggi ragazzi perché ieri sera come sapete abbastanza tutti Abbastanza tutti non si può sentire Come sapete tutti ieri sera stavo a 772 iscritti Stamattina mi risveglio e trovo questo 639 iscritti ragazzi Io continuo a dire che comunque Youtube Italia non funziona Perché non è possibile che non manda le feed E non fa queste Cioè non manda le feed oppure non toglie gli iscritti Fa così a me proprio ragazzi non vi fa giù questa cosa E purtroppo solo in Italia funzionano queste cose Forse mi sbaglio ma pure Youtube America fa così Ma non lo so io non lo posso sapere io parlo qua di questa community Non è possibile è una vergogna ragazzi Poi magari se non è il bug O tutti i suoi disiscitti ma non credo addirittura fino a 639 iscritti Ragazzi non lo so Fatemi sapere magari sotto un commento Qua sotto sotto un commento che Che cos'è secondo voi se è un bug oppure no Vabbè Ciao ragazzi Oppure anzi no ragazzi poi volevo dirvi che comunque è successo anche Ad altri Youtuber questa cosa Perché io poi sono andato a chiedere nei live E hanno detto che anche oggi un altro Youtuber stava a 200 No a 127 iscritti ieri E stamattina si è risvegliato con 87 iscritti Cioè veramente ragazzi non so che dire E anche un'altra mi pare che stava Non mi ricordo però li sono scesi E ad un amico invece li sono arrivati prima a 0 iscritti E poi li sono risaliti tutti quanti Non lo so fatemi sapere sotto un commento Cosa E che secondo voi è un bug oppure no Ciao